La conclusione è ancora la grande parata di Simonante. Mangini di pochissimo fuori, la conclusione è il gol, 1-0, di questo primo tempo la scucchiaiata per Felicini, gran gol, Sannino, la conclusione, Bellumori, Nistor, la conclusione finisce fuori, era una buona occasione per Nistor, ultimi 5 minuti del primo tempo, la conclusione non poteva nulla Simonante, ma il pallone è finito fuori. Credo sia entrato anche Zepp, attenzione però, la conclusione è il gol, 2-2, per andare gli spogliatoi avanti, Matteo, gol! Rossi, Rossi, la conclusione è di pochissimo a lato qui, tanto però c'è Tangini, Tangini, la conclusione, Palo, Palo clamoroso da parte di Tangini, ancora Tangini, buona la giocata per Fantozzi, la conclusione, credo ci sia stato il tocco di Tartabini. Virtus Sanguillara, Franchi, la conclusione, grande parata di Tartabini, attenzione la conclusione, di pochissimo, forse anche un palo, eccolo qui, triplice fischio, la Rosati Utenzi li ha conquistato, una vittoria importantissima, tre punti fondamentali. Grazie! Grazie!